Questo programma è offerto dal quotidiano telematico www.quattrominuti.it. Abbonati online gratuitamente. www.quattrominuti.it Presidente Tiziano Motti, Presidente di che? Dell'Europa dei diritti. Ci vuol dire brevemente cos'è l'Europa dei diritti? Associazione nata nel 2004, associazione senza fini di lucro, nata nel 2004, si è sviluppata in modo particolare nell'ultimo anno. Abbiamo 170 avvocati che ci aiutano a dare consulenza gratuita ai cittadini che si rivolgono noi prevalentemente tramite il sito www.europadeidritti.it, sito che contiene anche un blog dei libri diffusi gratuitamente per portare ai cittadini una maggiore conoscenza dei loro diritti. Benissimo. Proprio per informare, noi abbiamo fatto un sondaggio, perché credo che molti, molte anzi in questo caso, non sanno questa cosa, questo che dovrebbe emergere da questo sondaggio. Dove si chiede? È al corrente che le casalinghe oggi godono di una copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni? E poi, se una casalinga è soggetta ad un infortunio durante i lavori domestici, naturalmente, rimane invalida, le viene riconosciuta una rendita vitalizia? Sentiamo che ci dicono. È a conoscenza, signora, dell'esistenza di un'assicurazione INAIL per le casalinghe contro gli infortuni domestici? Certamente, quelle dei 12 euro e... Sì, quelle 12 euro all'anno. Però io sono fuori di tutto perché ho superato i 65 anni. Vedo che è informatissima, la consiglierebbe comunque a colleghe casalinghe? Certamente, anche perché è una cifra abbordabile, insomma, non è... Sì, la consiglierei. Sapeva che se succede un infortunio domestico che porta in invalidità c'è anche una rendita vitalizia? Sì, 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 sapevo. Mi avevano informato. Sei a conoscenza dell'esistenza di un'assicurazione INAIL per le casalinghe? Sì, sono assicurata. Sì, da quanto tempo? Da due anni. L'informazione come l'hai prevenuta? Tramite l'assicurazione, però tramite l'INAIL. Adesso non mi ricordo bene perché è mio marito che si è interessato. Quindi è conoscenza che se subisce un infortunio domestico gode di una rendita vitalizia? Sì, a seconda poi del, penso, del grado di invalidità, no? Ci sono vari gradi. È conoscenza dell'esistenza di un'assicurazione INAIL a favore delle casalinghe? Sì, sono conoscenza, però quello che mi lascia un po' con l'amaro in bocca è che fino a 65 anni, dopo i 65 anni praticamente non si è più casalinghe. Ci stiano morti. Un breve commento perché poi voglio, che mi sono scordato di presentare, e non certo che non è una persona che non si faccia notare, la bella, brava e intelligente Eleonore Casalegno. E' intelligente? Sì. No, perché di solito... La congiunzione è intelligente. Lo sa perché lo dico? Perché uno non dice intelligente, brava e bella? Allora glielo dico subito. Al contrario. No, le dico subito questo, perché bisogna sfatare un'altra cosa, che la donna bella non sia intelligente. Appunto, allora bisogna portare intelligente. No, ma io lo dico apposta, lo dico apposta, perché la gente abbini la parola bella alla parola intelligenza, cosa che spesso non fa. Però... Ma questo lo fanno anche dell'uomo. Attenta, qui non fa delle vittime ogni volta. No, ma per carità. Perché anche dell'uomo si dice, hai visto quanto è bella? A me non lo dicono mai, infatti a me dicono sempre solo come intelligente, e saltano la prima parte. Guarda, devo dire una cosa... Vogliamo un'altra trasmissione. No, no, no. Devo dire che la nostra ospite Eleonore è molto fortunata per due motivi. Primo. Oltre ad essere molto bella, come l'hai evidenziato, è anche molto alta. Sì. E questo non è che sia poi una cosa... E invece sì. Perché c'è un... Chi studia comunicazione, sa, è una curiosità per i nostri telespettatori. Beh, io me ne vanno molti, allora... Sì, noi parliamo, lei può fare altro. C'è una curiosità per i telespettatori che è questa. Un fenomeno chiamato tecnicamente effetto alone, ci dice che quando una persona è di bell'aspetto e alta, viene percepita comunque dalla gente come maggiormente intelligente e affidabile. Ah, però... Quindi, noi vediamo... Lo vediamo allora. Vediamo, persona di bell'aspetto, alta, diciamo, ah, questo di sicuro è una persona intelligente. No, lo facciamo inconsciente. Professore, l'è l'eccezione, naturalmente. La ringrazio. Un applauso da casa. Però dico anche questo, che spesso dicono, e in effetti è vero, quando uno comincia a descrivere una persona, un uomo o donno che sia, com'è, dice, bello, alto, non si è mai sentito, dice, bello, piccolo, io sono piccolo marmonico, infatti mi difendevo così. Dunque... Lei è compatto anche, com'è caro armato. Diciamo però velocemente... No, un rapidissimo commento al sondaggio è che ovviamente, ovviamente perché purtroppo è così, nel senso che l'ignoranza ci rende meno liberi, è difficile che il cittadino, e quindi anche le donne, le case ringhe che ci ascoltano, sia al corrente di tutti i diritti che lo riguardano. Tra questi c'è un'assicurazione obbligatoria per le casalinghe, che di fatto è un diritto ma anche un dovere, che permette alle donne, poi dico alle donne, di fatto, poi voglio dire, deve per forza esistere anche il casalingo, visto che c'è una parità tra i sessi, oggettiva legalmente parlando. Quindi diciamo, per chi svolge... Io non mi guardo perché io non sono tutto... Non fa il casalingo. Di fatto però, diciamo, per chi svolge lavori domestici, a titolo esclusivo, e quindi non lo fa, mentre fa anche un altro lavoro, e pertanto non può avere un'altra assicurazione obbligatoria E-mail, esiste l'obbligo di assicurarsi, obbligo che quindi è un dovere, ma è anche un diritto, perché c'è una minima spesa annua, poi magari approfondiamo dopo la pubblicità, che però permette di poter avere una rendita permanente in caso di una rendita vitalizia, in caso di invalidità permanente superiore a una certa percentuale. Poi diamo i dati. Di fatto però, le casalinghe, chi svolge attività di lavori domestici, per interesse del nucleo familiare, oggi ha una tutela. Bene, spazio pubblicità, perché poi voglio fare una domanda senza aggettivi. A Eleonore Catarino, spazio pubblicità. Un'associazione Senza Fine di Lucro, Europa dei Diritti, promuove la collana Noi Cittadini, diffusa gratuitamente a 4 milioni di famiglie in 500 comuni italiani. Sul sito internet www.europadeidritti.it puoi scaricare gratuitamente i libri e le dispense dedicate alla difesa dei tuoi diritti. Puoi inviare le tue domande, a cui risponderà gratuitamente un team di 140 studi legali. Puoi segnalare ingiustizie subite nel tuo comune e ottenere visibilità. Europa dei Diritti, da voce ai cittadini. Ogni giorno raggiunge 800.000 iscritti al servizio di news tramite posta elettronica. Iscriviti gratuitamente tramite il sito internet www.europadeidritti.it e seguici anche sul sito www.motti.eu